Qual è la migliore occasione nella giornata dedicata alle feste di parlare di classe 11, la miraglia di Casa Rancilio che ci sta dando veramente tante soddisfazioni. Rancilio è voluto fortemente esserci perché sono tre manifestazioni legate al nostro mondo e noi non potevamo non esserci con classe 11. Presentiamo al mercato un prodotto assolutamente rivoluzionario che è quello del sistema Excelsus, che è un sistema che va a modificare la temperatura nei 30 secondi di erogazione. Un sistema brevettato, un sistema che abbiamo solo noi e di conseguenza ci interessava mostrarlo al pubblico, farlo vedere e farlo provare soprattutto perché questa è una macchina che per essere apprezzata va provata, va testata, va toccata. Tutta la tecnologia che c'è a disposizione per le macchine da espresso è sicuramente concentrata all'interno di questa macchina. Il punto di vantaggio è la possibilità di variare i profili di temperatura dell'estrazione del nostro espresso. Cosa vuol dire? Noi possiamo oltre che decidere a che temperatura erogare il nostro espresso, quindi 91, 92, 93, 94 gradi in base alla tipologia di miscela che utilizziamo per esaltare alcune caratteristiche rispetto a altre. Possiamo anche su una curva ipotetica di estrazione di all'incirca 24-27 secondi determinare la temperatura iniziale di estrazione e determinare anche la temperatura di uscita di questa estrazione. Con l'aranciglio classe 11 Excelsius questo invece è la portata di mano, anzi direi di dito, di qualsiasi barista. Basta entrare nel profilo Excelsius, scegliere il gruppo del quale vogliamo modificare la temperatura e semplicemente alzando o abbassando col dito possiamo cambiare la temperatura, anche di 0,5-0,2 gradi. L'aranciglio dà l'appuntamento a tutti a Host, dove unitamente al nostro spazio tradizionale avremo anche un'importante presenza sugli spazi di Enjoy the Table. Siamo molto soddisfatti di come si sta sviluppando questo percorso, anche se il visitatore medio non è l'utilizzatore potenziale della macchina, ma per esempio in questa occasione abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con gli esperti del settore e soprattutto con una decina di torrefattori presenti in maniera importante soprattutto sul mercato milanese e lombardo avendo onestamente anche la conferma da loro che sono i primi attori del mercato che classe 11 sta veramente sfondando. Un ringraziamento speciale va a chi ha organizzato Enjoy the Table e ci rivediamo a ottobre e aosto. Un ringraziamento speciale